Il prossimo 15 marzo lo sciopero nazionale degli avvocati per protestare contro i provvedimenti del governo Monti. L'ordine forense sta spiegando i motivi della protesta in varie piazze di Napoli e della sua provincia. Noi li abbiamo seguiti a Fratta Maggiore e a Grumo Nevano. Tutte le norme che sono andate a modificare quella che era la normale attività degli avvocati sono norme che inevitabilmente si rivolgono contro il cittadino. E questo è il messaggio importante che noi avvocati di Napoli stiamo lanciando con questa manifestazione con questi gazebo che abbiamo aperto alla città per far capire al cittadino che le norme che sono state emanate sono contro gli interessi del cittadino stesso. La sezione territoriale di Grumo Nevano del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori ha aderito alle iniziative di protesta dell'avvocatura italiana, sostenute anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli contro gli ingiusti provvedimenti, secondo loro, del governo che rendono gravoso e limitano l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Gli avvocati, attraverso il posizionamento di gazebo nelle piazze, hanno parlato alla collettività di queste riforme per far sì che siano chiare le conseguenze. Il Centro Studi ha distribuito la lettera aperta diffusa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che spiega i disagi cui i cittadini andranno incontro. C'è un disegno predeterminato di rottamare la giustizia a favore dei soliti poteri forti e delle solite categorie privilegiate. In particolar modo c'è in animo al governo un provvedimento secondo il quale è prevista la chiusura di gran parte delle sezioni distaccate dei tribunali circondariali e degli uffici del giudice di pace non circondariali. Nello specifico è prevista anche la chiusura delle sezioni distaccate del tribunale di fratta maggiore e del giudice di pace di fratta maggiore. Motivi che sono giustificati con il taglio di spese per la grave crisi economica che attanaia il paese, ma che in verità nasconde ben altri motivi, che è quello della disorganizzazione di distrarre queste risorse per togliere al cittadino una giustizia liberale, un presidio di legalità e invece favorire i poteri forti, quindi le imprese, istituendo un tribunale, il tribunale speciale delle imprese. Tutta una serie di manifestazioni che prevedono l'installazione di gazebo nelle principali piazze italiane sia della provincia che delle città più grandi. Manifestazioni a Roma per il prossimo 15 di marzo che culmineranno nel congresso nazionale forense straordinario di Milano del prossimo 23 marzo.